Musica Sono arrabbianti ed usiamo un eufemismo e non sanno più a che santo votarsi. Loro sono i 130 operai della turco costruzione di Gela. Questa mattina hanno scenato un sit-in di protesta dinanzi al palazzo di vetro dello stabilimento Eni. Al momento attuale, dicono, non è stato rispettato l'accordo siglato lo scorso 12 luglio a Caltanissetta fra azienda e i sindacati in cui la stessa azienda assunse l'impegno di saldare agli operai i relativi arretrati. Ad oggi sono senza stipendi da quattro mesi. Dopo tanti mesi che tutti gli operai non percepiamo lo stipendio, si va solo avanti ad acconti. A conti, a conti. Quindi la gente ormai è diventata esausa di questa situazione. Anche perché ognuno di noi abbiamo i nostri impegni con i prestiti, i bimbi che vanno a scuola, che ha i figli all'università per fare la spesa, per mangiare tutto il resto. Quindi si è creata una situazione di scoraggiamento, di una situazione che non si può andare avanti. Da io e da giugno che sono qua ancora una busta non l'ho presa, ho preso solo a conti. La gente deve prendere gli altri operai e si parla di cassettile arretrata, buoni pasti che da tanti anni non li dà. Quindi a parte lo stipendio, a parte lo stipendio che sempre si va, come ripeto, ad acconti. Quindi non lo so se questa è una situazione da reggere. L'impresa Turco Costruzioni, una delle più solide del territorio, sta attraversando un periodo di crisi per la carenza di commesse di lavoro. Io me ne tiro in pensione e hai bisogno di soldi e non hai un'enda a casa. Ma non di ora, dopo quattro mesi compito una lira. 300 euro un mese all'agosto, dopo per agosto. 400 euro una settimana fa e io non ci ho fatto più a campare. Ecco, ma cosa vi dicono coloro i quali poi dovrebbero darvi materialmente lo stipendio? Perché ti dico, ti dico a giorni, ma quale giorni su? Hanno postato 8 mesi già, ancora c'è Campo Giornale. Ancora mi ricevo la cassetta, 9.000 sirici. Alle prossime elezioni regionali, previste per il 5 novembre, c'è un nuovo candidato. Si tratta di Filippo Franzone, portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Lo ha deciso lo stesso direttivo. Franzone concorrerà con l'Udc in quota nuovo PSI. La sua candidatura è stata ufficializzata questa mattina. Per portare a termine i grandi progetti di Gela servono persone che hanno un pizzico di amor de patria. Hanno scelto me, hanno voluto che fossi io a condurre questa iniziativa. Bene, dobbiamo concludere per Gela veramente importanti progetti. E il primo ritengo per innescare un processo di sviluppo è appunto il transito alla città metropolitana di Catania, ma non solo. Bisogna cominciare a puntare su ciò che produce lavoro per Gela e sviluppo. E in questi anni non è stato fatto e ce ne ramarichiamo tanto. Franzone ci tiene a chiarire che il comitato non è assolutamente politicizzato. La sua sostiene è una candidatura fortemente voluta dal direttivo per cercare di offrire un contributo alla collettività. Non si fa un'iniziativa per 12 anni per far si dire che si è politicizzato. Finora abbiamo battuto questa strada nel modo civico. Adesso c'è da andare a forzare la mano all'interno del palazzo. Sappiamo come fare, sappiamo come risolvere il problema. Se è questo che vogliono i parlamentari regionali che non hanno permesso quello che i cittadini hanno liberamente scelto, siamo disponibili anche ad andare a battere i pugni sui tavoli all'interno del palazzo. E' pur vero che non sarà facile ottenere tanti voti per poi andare all'Assemblea regionale siciliana? Con i gelesi abbiamo avuto sempre uno splendido rapporto. Ogni volta che abbiamo chiamato i gelesi a raccolta hanno sempre risposto bene. Lo hanno fatto con le firme per difendere l'ospedale, ne abbiamo raccolto 10.200. Lo hanno fatto per la proposta di legge popolare, lo hanno fatto per il referendum, per il passaggio a Catania. Ci auguriamo che lo facciano anche questa volta perché questo passaggio serve per completare tutto ciò che hanno scelto con le loro firme e con le loro intenzioni in passato. Enzo Antonuccio, segretario regionale del nuovo PSI Sicilia. La sua correttezza, il suo impegno mai messo in discussione, dice che l'ha dato la disponibilità. Dopo giustamente ha consultato perché la nostra candidatura molti anni fa era per Filippo Guzzardi. Perché lui è venuto di nuovo nel Partito Socialista, tesserato e quindi ho detto nulla osta eccetera. Mendere con molta correttezza ha detto che la sua candidatura la metteva a disposizione del Comitato e quindi faceva un basso indietro per Filippo Franzone. Cosa che a me ha meravigliato perché è uno che ha sempre rifiutato questa immagine politica perché non lo è e non lo è all'interno del PSI. Cioè non è Franzone, non è nuovo PSI, è uno che nella società civile, noi speriamo perché a trattativa il coso, le liste si faranno fino al 6, ci sarà sempre questo a livello regionale. Ma c'è un impegno del Partito Nazionale di mettere in candidatura in questa corsa uno della società civile, Filippo Franzone e della società civile, non è del nuovo PSI. Ritengo che sia una proposta questa molto importante in rappresentanza di un progetto politico alternativo a Renzi a Crocetta, in loco, ed è il quarto polo. Su questo lavoriamo e invitiamo i cittadini anche a fare altrettanto, dando il loro consenso alla lista 100 passi per Fava. Il candidato presidente è pronto, Fava, in merito a quello che le diceva si denota ancora una volta una spaccatura profonda proprio nella sinistra. Bisogna distinguere la sinistra. C'è stato il centro-sinistra, che non c'è più, che è a livello nazionale governato da Renzi e Alfano, cioè dire centro-sinistra e centro-destra, che assieme hanno rappresentato il centro-sinistra. E c'è stata la sinistra, quella senza aggettivi, senza se e senza ma, coerente nel provare a rappresentare sempre gli interessi delle categorie cosiddette delle fasce più deboli. Noi siamo quella sinistra alternativa a Renzi, ad Alfano e a Crocetta. Ma come si può ambire a ricoprire il ruolo di governatore della Sicilia, avendo, come sottolinevamo, una sinistra spaccata e più sinistra? Non c'è una sinistra spaccata. C'è stata una sedicente sinistra, o meglio, una sedicente centro-sinistra, che si è specializzato per tale nella nomenclatura, nel lessico, nella dialettica, ma in realtà ha fatto tutto al contrario di tutto. Ha fatto, diciamo così, gli interessi della compi-industria. Il governatore Crocetta è stata l'espressione della compi-industria. Non a caso ha avuto assessori, non a caso ha cambiato 57 assessori. Quindi la domanda come si fa a governare la regione bisognerebbe porla a Crocetta, naturalmente. Noi, con Fava, pensiamo di avere anche una funzione etica, correttiva degli errori che questo sedicente centro-sinistra ha compiuto. Pensiamo di essere alternativi a Renzi, a Micari, a Crocetta e anche a Musumeci, oltre che a Cinque Stelle. Capisco che il suo non è un voto sufficiente nei confronti del governatore Crocetta. Lei che è stato anche assessore di Crocetta, sindaco a Gela. Io sono stato assessore a una stagione molto fortunata per la città di Gela. Quanto alle parole si seguivano i fatti, si aveva un atteggiamento etico, coerente, anche con i valori della sinistra. Poi uno capisce che tradire e fareci di mezzo al mare, Crocetta è stata espressione di questo oceano, di contraddizioni. Dopodiché lei si ricorderà molto bene che io me ne sono andato da quell'aggiunta perché volevo rimanere coerente con i miei valori. E dunque il voto non è sufficiente? Assolutamente, a Crocetta bisogna dire che in realtà è stata espressione dei poteri forti della regione siciliana, tutt'altro che sinistra. Le riqualificazioni urbane di via Tevere, via Niscemi e via Mediterraneo e Gela sono state finanziate con decreto regionale nell'ambito del patto per il sud. I tre progetti sono vistati dalla ragioneria centrale della regione e seguono i lavori di riqualificazione urbana di via Navarra, di rifacimento dei prospetti e rifunzionalizzazione degli spazi esterni al convento dei frati minori dei Cappuccini e di urbanizzazione di Erbani e Roccella in merito allo stralcio funzionale di via Martinica e Traverse. Per quest'ultimi l'Urega espererà le gare d'appalto il prossimo mese di novembre. In sei mesi, dice l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco, abbiamo ottenuto sei decreti di finanziamento per altrettante opere su 23 progetti esecutivi adeguati alla nuova legge sugli appalti. Adesso si innesca un circolo virtuoso tra finanziamenti ed aggiudicazioni che solleveranno Gela e non solo il settore edile dalla grave crisi economica in cui è sprofondata negli anni passati. Stiamo lavorando lacrimente, questi sono i risultati del lavoro proficuo che è stato fatto ai lavori pubblici quindi mi complimento con i dirigenti e funzionari che sicuramente si sono impegnati tantissimo per ottenere questo risultato. Non ci fermiamo ovviamente e proseguiamo anche per gli altri progetti. Un impegno proficuo e continuiamo anche per gli altri progetti. Siamo arrivati a circa 6 milioni di euro di progetti finanziati che dovrebbero andare in gara subito ed essere cantinati per il 2018. L'Ureca ha già calendarizzato il tutto, tra poco sanno pubblicati nella gazzetta ufficiale, a novembre partiranno le prime tre gare. Via Martinica, rifacimento dello spazio esterno dei cappuccini e via Navarra. Stiamo lavorando sui progetti di rivoluzione di Borca di Cadore, anche lì una via di importante comunicazione tra Fondo Iozze e Capo Soprano. Piazza Eleusi, anche lì un asse stradale molto importante con anche un'area verde che servirà sia a Macchitella che alle case popolari. Poi la rivoluzione di Macchitella, ci sono dei marciapiedi da costruire. Il progetto Agility. Ci siamo sempre andando avanti. Elena Bellardita, voi nel comunicato stampa che avete redatto nell'ultima ora sottolineate che voi non vi candiderete alle prossime elezioni regionali. Per quale motivo? Non ci candidiamo perché la nostra scelta nell'affrontare le problematiche è quella di non dare nessun tipo di colore politico alle battaglie. Per cui noi tranquillizziamo la cittadinanza nel dire che non ci candidiamo ma non demordiamo dall'impegno giornaliero a contatto con la gente per tutte quelle problematiche che riguardano la cittadinanza di Gela. Dunque sostanzialmente non condividete l'operato del Comitato per lo sviluppo della Reggelese che candida Franzone. No, noi non entriamo nel merito di questi argomenti esclusivamente perché crediamo che la scelta di candidarsi è una scelta assolutamente legittima. Noi non condividiamo invece il fatto dell'utilizzazione demagogica di alcuni argomenti, e mi riferisco nello specifico della battaglia di Gela di uscita dal libero consorzio di Caltanissetta, come trampolino di lancio per eventuali candidature, né tantomeno come promesse elettorale. Per cui la nostra puntualizzazione è rivolta a tutti i candidati. Noi non consentiremo assolutamente a nessuno di utilizzare questo argomento come cavallo di battaglia delle prossime elezioni regionali. Non è questa la prima volta che diciamo questo, lo abbiamo sempre affermato. Oggi ha maggior ragione perché abbiamo sempre detto, e lo diciamo anche ora, che la battaglia è una battaglia che riguarda l'intera città di Gela, è il premio della riuscita o non riuscita, è dell'intera comunità gelese e non di un soggetto appartenente a questo o a quell'altro colore politico. Lei parlava di battaglia, una battaglia ancora non vinta purtroppo, considerato che Gela è tuttora nella libero consorzio di Caltanissetta. Sì, una battaglia ancora non vinta, una battaglia nel corso della quale ci sono state promesse di fide, ci sono stati promessi ricorsi, promesse che oggi, vista la situazione attuale, si sono tutte infrante. Temiamo che questa battaglia sia stata appunto strumentalizzata e oggi si sia alzato un attimino l'asticella. Fino a ieri si diceva che la diffide, il ricorso, poteva essere la soluzione del problema, oggi invece c'è chi ci dice che la soluzione del problema è quello di andarsi a sedere all'interno dell'aula dell'Ars dopo aver dato una bella spallata alla porta d'ingresso. Conferito ufficialmente questa mattina nell'aula consigliare del Palazzo di Città, la cittadinanza onoraria al colonnello dei Carabinieri Mario Mettifogo, al testimone di giustizia Rino Miceli e all'imprenditore Salvatore Moncada, i tre neogelesi ad onorem, si sono distinti per il loro impegno in città contro la criminalità organizzata. Mettifogo dal 1989 al 1993 ha retto il comando del nucleo operativo e la compagnia di Gela in un periodo di particolare recrudescenza mafiosa, conducendo proficue indagini anche in relazione al racket delle estorsioni. E a questo ultimo fenomeno si sono ribellati Moncada e Miceli. Il primo nel 2004 ha fatto arrestare in fragranza di reato estorsioni di Cosa Nostra che gli avevano chiesto il pizzo sui lavori che si era giudicato per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione in Contrada Manfia. Miceli invece, nello stesso periodo di Mettifogo, ha denunciato e fatto arrestare 46 estorsioni dalle consorterie mafiose di Cosa Nostra e Stidda che dal 1990 gli avevano chiesto il pizzo sulla sua attività commerciale a Gela e lo avevano minacciato ripetutamente con atti intimidatori. Inserito in un programma speciale di protezione per ragione di sicurezza, il testimone di giustizia ha dovuto lasciare Gela con una nuova identità. Grazie al suo caso è stato l'ispiratore della legge del 23 febbraio 1999 numero 44 ovvero le disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. E' una presa di coscienza della città che è il risultato di un percorso che ha fatto la città, quello di riconoscere che c'era la necessità di riappacificarsi così come io riconoscevo di dovermi riappacificare con la città e sotto questo aspetto questo conferimento che mi onora, che mi emoziona è il coronamento di questo riappacificamento di una città diversa rispetto a quella degli anni 90. Ma se lei tornasse indietro rifarebbe le identiche cose, denuncierebbe gli estorsori, li farebbe condannare? Io l'ho ripetuto all'infinito, la risposta è sempre la stessa, ho fatto un'azione che era dovuta a me stesso, alla mia libertà di impresa e personale e certi versi ritenevo che fosse anche dovuta al territorio nel quale vivevo e quindi in qualunque momento rifarebbe esattamente le stesse cose, con quello che mi è costato ma anche con quello che ho ricevuto in termini di autostima e di poter guardare negli occhi i miei figli con serenità. Oggi lei è un nuovo cittadino di Gela, per lei che cosa significa? Sicuramente Gela è una delle città dove io passo di frequente, ho avuto esperienze col basket, sicuramente mi fa piacere ma la cosa che più mi fa piacere è il fatto che i gesti che sono stati fatti vengano comunque ricordati e riconosciuti alle persone anche perché spero servono da buon esempio anche ad altri cittadini. Alla cerimonia di oggi, oltre all'amministrazione e al Consiglio Cunale, hanno presenziato varie autorità civili e militari. Oggi è una bellissima giornata, un riconoscimento che non mi aspettavo e che mi rende ancora più felice. E questo riconoscimento nel privato che significato ha per lei? Beh, il riconoscimento di un lavoro fatto tanti anni fa, in un determinato modo, in quel momento molto difficile, è fatto, credo, bene. Ma cosa ricorda di quegli anni bui? Ricordo che c'era la voglia di voltare pagina e è stata voltata la pagina. Le più volte anche da noi ha dichiarato che la cittadinanza onoraria la dedica interamente a Catano Giordano, alla famiglia di Catano Giordano, ucciso il 10 novembre del 92. Quell'omicidio per Gela, per la collettività, cosa ha significato? È stato, credo, un punto di svolta, il punto più basso raggiunto in quel momento dalla cittadina, ma dal giorno dopo si è cominciata la risalita che ha portato poi alla sconfitta di quel fenomeno mafioso di quel periodo. L'input che parte oggi è uno solo, quello di denunciare ancora una volta i soprusi. Assolutamente, bisogna ormai nella società attuale non ha più senso in alcun modo sottostare abusi di nessun tipo. La legalità è fatta da atti concreti. Noi oggi viviamo in una città dove il rispetto delle persone si percepisce. Questo è possibile grazie a un cammino. Chi ha avviato questo cammino sono stati il colonnello Mettifoco, il signor Miceli, il signor Moncada, uomini che si sono comportati da uomini nel momento in cui si è stato chiamato a fare delle scelte. Non è sempre facile, fare scelte è sempre difficile, fare la scelta giusta molte volte è doloroso, è complicato. Vorrei ricordare che il signor Miceli che il signor Moncada hanno avuto la scorta per le proprie denunce. Moncada ha rinunciato, il signor Miceli che si è dovuto proprio abbandonare la città, avere un'altra identità. Quindi per comportarsi nelle regole hanno dovuto pagare un prezzo notevole e rinunciare parte di quello che erano. Da oggi avremo tre nuovi cittadini gelesi, tre cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno e il loro senso di illegalità nei confronti della città di Gela in tempi ancora dove era veramente difficile ribellarsi. Anche un rappresentante delle forze dell'ordine che allora quanto era Gela sicuramente non era facile contrastare la criminalità. Quindi è con grande piacere che oggi conferiremo queste tre cittadinanze in oraria a questi tre nuovi cittadini e con la speranza e con l'input anche di diffondere il nome di Gela in senso positivo e non con gli stereotipi che purtroppo ci portiamo dietro da anni. Credo che la mia sia di fatto l'unica novità nel panorama regionale. Credo che sia una novità nella quale si incarnino sia un aspetto progettuale. Noi stiamo elaborando e stiamo presentando, lo vado facendo ogni volta, un programma che è basato su due cardini fondamentali che sono quelli del lavoro e quelli dei diritti. Sul fronte del lavoro parliamo di imprese, parliamo di supporto alle imprese, parliamo di tutte le opportunità che devono servire ai nostri giovani per trovare lavoro e quindi per poter restare a lavorare in Sicilia. Sul fronte dei diritti ci preoccupiamo della salute, ci preoccupiamo di quelli che hanno meno degli altri o che non hanno addirittura nulla. Programma, idee, competenza. La competenza è altrettanto importante. E' importante che i siciliani affidino la loro regione a delle persone che abbiano già dimostrato di sapere governare, ancorché in altri settori, ma che abbiano dimostrato di sapere governare. Perché affidarsi invece a dei messaggi che sono soltanto degli slogan, ma dietro i quali poi dopo non c'è una sostanza, una capacità di governo o dall'altra parte ci sono ricette vecchie che hanno già dimostrato di avere fallito in Sicilia, credo che non sia opportuno. Sicilia è una città che deve reindustrializzarsi, quindi su questo abbiamo voluto un suo impegno. Abbiamo voluto un suo impegno nell'agricoltura, perché sull'acqua refla, sulle dighe, perché l'agricoltura senza acque non è possibile farla. Abbiamo voluto parlare di lui, dei nostri beni archeologici, che sono tanti e vorremmo valorizzarli meglio. Abbiamo parlato con lui di un'altra cosa importante, dove lui è specialista, le infrastrutture, perché ci sono 20 miliardi della comunità europea che non sono spese. Ecco, noi vogliamo che si spendano e si facciano le infrastrutture, perché per mettere tutto a sistema, il collante, la viabilità. Quindi una persona competente che sicuramente è in grado di programmare, perché se non si programma e si mettono in evidenza quali sono i problemi, non si possono risolvere. Gela viene da un percorso industriale difficile e oggi ha la necessità di rilanciare la propria economia, di ritrovare una centralità nel processo economico. Quindi infrastrutture, sbloccare il porto, dall'altro lato attivare tutta una serie di percorsi economici per il sistema imprenditoriale che possono riassorbire quello che è l'indotto della raffineria e che possono dare una prospettiva alle famiglie di questo territorio. Dietro l'indotto ci sono 23 comuni che vivevano attorno alla raffineria. Oggi bisogna trovare una nuova focalizzazione industriale, per cui chiederemo e metteremo nel programma di governo una zona economica speciale, un progetto speciale delle infrastrutture che possa chiudere l'anello autostradale e possa dare una centralità al porto di questa città per attivare poli logistici nel Mediterraneo e soprattutto un quadro economico nuovo che possa far guardare con serenità al futuro i cittadini di questa città. Una giornata dedicata interamente alla protezione civile si è svolta ieri a Gela nell'ambito della non edizione della raduno delle organizzazioni di volontariato. Una domenica intensa con incontri, dibatti e convegni. Per le vie del centro storico si è tenuta anche la sfilata della fanfara. Per parlare di rischi nel nostro territorio oggi è diventato il tema principale, questo sta a significare che la città vuole sapere, vuole sapere più informazioni possibili e quindi il volontariato si deve rendere attivo sotto questo aspetto perché deve promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione con quali strumenti? Gli unici strumenti che può utilizzare sono quelli degli uffici competenti, come l'ufficio comunale di protezione civile coinvolgendo sia loro a noi che noi a loro è quello di promuovere attraverso le scuole, verso la collettività organizzando dei seminari magari di informazione. Questo diventa anche un metodo per poter informare anche la popolazione. Ai nostri microfoni il responsabile della protezione civile Sicilia, Calogero Foti. Il sistema nella sua interezza ha avuto anni di crisi e di difficoltà, però è da due anni che abbiamo ripreso il rilascio dei rimborsi e degli atti di assistenza alle associazioni di volontariato per portare avanti i programmi e nuove iniziative. Dunque le condizioni attualmente ci sono? Ci sono, è chiaro che possono essere sempre migliori e noi ci stiamo sforzando per attuare anche questo tipo di politica una politica che sia sempre più a favore delle associazioni di volontariato e che questo significa anche una politica a favore delle comunità dove esse operano. Stiamo però evidentemente cercando di dare una strutturazione a questo sistema affinché sia lo stesso sistema che possa andare avanti piuttosto che la singola associazione. Come sta la Sicilia sotto l'aspetto idrogeologico? Il rischio idrogeologico è uno dei principali rischi di cui soffre la nostra regione. Adesso in verità si cerca attraverso le opere strutturali finanziate dal piano per il sud di risolvere parecchi di questi problemi, altri saranno risolti con gli investimenti previsti dal POFESDRA, però è chiaro che per poter individuare con esattezza ciò che deve essere fatto per la riduzione del rischio è strettamente correlato a una definizione, a un'analisi del territorio e quindi a una definizione degli scenari di rischio in modo tale da individuare anche le priorità e le necessità di intervento. In tanti, al di là di ogni aspettativa, hanno seguito sabato scorso la manifestazione Gela sotto le stelle, appuntamento nella scalinata di Viomero che per l'occasione è sembrata una piccola piazza di Spagna di Roma. Modelle e modelli hanno sfidato tra due ali di spettatori. L'organizzazione porta la firma dell'agenzia Consi Evans, una serata, quella di sabato, interamente dedicata alla famiglia Caracappa, devastata dal terribile incidente stradale del 28 agosto scorso in cui hanno perso la vita Nucciavullo e la piccola Ludovica. Sono molto soddisfatto, emozionato per il riscontro che abbiamo avuto della città, che si è divertita, commossa, è stata molto entusiasta di quello che ha visto durante Gela sotto le stelle e anticipo che per dicembre abbiamo avuto il marchio Teleton, riusciamo a inserire Gela nel circuito Teleton che andrà per un breve periodo anche in collegamento con la diretta Rai. Ma quando cade una stella si esprime un desiderio, considerato che si parla di Gela sotto le stelle, qual è il desiderio di Pepe Quattroocchi e dell'intera agenzia? Allora, il mio desiderio è quello che Gela possa essere sensibile a argomento giovani. I giovani hanno tanto da dire, i giovani non sono quello che spesso noi giovani di un tempo dipingiamo, cioè giovani senza una meta, senza un sogno, ma in realtà i giovani hanno tanto da insegnarci. Madrina d'eccezione è stata la bella e brava Nina Moric. Che effetto fa invece per la prima volta essere a Gela? Prima volta a Gela è vero, è bellissima, devo essere sincera che veramente non me l'aspettavo così bella. Poi ho sentito che la sabbia di Gela è una delle più fini proprio che ci siano a mondo, perciò è come stare in deserto, molto bello. In deserto sto prendo la sabbia giustamente, poi la città è stupenda, abbiamo mangiato bellissimo, la serata è andata veramente, è stata meravigliosa, molto emozionante, spero di tornare presto. E cosa porterai di Gela? Mi sono preso un po' di sabbia, visto che è la più fine del mondo, perché no, no, cosa porterò? Porterò grande amore, grande accoglienza, che soprattutto da queste parti è sempre meraviglioso e questo sole che sicuramente risplenderà anche a Milano una volta tornata lì. Appuntamento alla prossima edizione di Gela sotto le stelle. E poi tu più volte hai ripetuto che le vostre iniziative servono non tanto a ricevere una fascia che poi viene riposta nel rienticatoio, ma quella fascia deve essere il trampolino di lancio. Ed è questo quello che noi ci proponiamo e quello che sogniamo per i giovani, tant'è che a Roma ci sono stati dei ragazzi che sono stati scelti e alcuni andranno a Bucarest e da lì il sogno può essere che diventi realtà, perché ci sono dei registi che faranno la selezione. Se quelle che non arrivano a vincere il contratto lavorativo, possono avere anche loro delle opportunità lavorative. Dunque adesso dicembre, poi il prossimo anno a settembre Gela sotto le stelle, quinta edizione. Sì, questo me lo auguro con tutto il cuore.